Si terranno dalle 8 alle 20 di domenica 29 settembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. La consultazione elettorale riguarderà solo i sindaci e i consiglieri comunali in rappresentanza dei cittadini residenti nei comuni del territorio. Due le liste che si confronteranno, la regolarità delle quali è stata vagliata dalla Commissione Elettorale, Identità e Territorio, composta dai candidati Lido Beltrame, Andrea Crivelli. Ilettorale, Identità e Territorio